Bello a tutti, Zistro e Kenzie, e benvenuti a questa nuova puntata di The History Of. Oggi si parlerà del Winner Taco. Premessa, ho iniziato a scrivere questa puntata il 13 gennaio 2014. Oggi, 15 gennaio, l'Algida ha, forse, annunciato il grande ritorno del Winner Taco. Coincidenze? Io non credo. Questa è la storia del bene contro il male, lotta intestina per l'Algida, Winner Taco contro Magnum. Una storia epica in cui non saranno risparmiati colpi. L'Algida introduce in Italia il Winner Taco nel 1998. Un favoloso taco al caramello, congelato alla panna, ricoperto di cioccolato. Tutti noi l'abbiamo provato almeno una volta. Ma evidentemente, le lobby dell'Ispettore Callaghan, quello dei 44 Magnum in fila per sé col resto di due, sono state contro di noi, contro i suoi fan. Viene infatti tolto di produzione. Forse perché aveva fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Spider-Man! Le origini del Winner Taco non sono però italiane. Viene infatti introdotto in Italia dalla Unilever, proprietaria dell'Algida, ed arriva direttamente dal mercato americano. Il ciocotaco si chiamava, prodotto dal 1984. Era il cioccolato, ed era commercializzato dalla Clondine. Ci è stato tolto. Forse perché gli esperti di marketing dell'Algida erano laureati a Gardaland. O forse, come sostengono i maggiori esperti di Winner Taco mondiali, cioè gli admin di Ridateci il Winner Taco, essendo effettivamente più buono degli altri gelati, il Winner Taco cannibalizzava il mercato Algida. Per cui, le persone acquistavano solo quello, lasciando perdere gli altri prodotti. È stato un simbolo per generazioni. La forza che dava un morso di Winner Taco è paragonabile a quella del pan di via. Ed ingiustamente ci è stato tolto. Ci è stato tolto. Ok, ci sono delle imitazioni. Gelatelli. Ma non è la stessa cosa. Insomma, ridateci il Winner Taco! Ostia! Taco! Taco! Ma come è nato il Winner Taco? Nostro idolo, padre supremo. Colui che è in cielo con i ghiaccioli. What? La leggenda vuole che Dio, il settimo giorno, non si riposò. Anzi, vide che il taco era cosa giusta, ma soprattutto buona. Buona si è accompagnata al gelato e al caramello. Tramondato nei migliori libri di cucina. Mangiato anche nel ristorante al confine dell'universo. E sparito una decina di anni fa. D'orso polare, simbolo del taco. E ora disoccupato, forse, è stato avvistato a scippare vecchiette in metro a Milano. Intervistato. Ci ha detto che non vuole parlare. Il passato è passato e non tornerà. Forse. È davvero così? Lettera aperta per l'algida. Diteci perché lo avete tolto, please. Dateci delle risposte. Riproponetecelo. Sono più di 8000 le persone che ve lo richiedono. Non sarà un flop? E ora, forse una speranza c'è. Forse la lotta dei taco sostenitori ha avuto l'effetto voluto. Orsi polari di tutto il mondo, unitevi.